ciao ragazze allora nuovo video dove faccio video pulizie piatti e tutto quanto spero questo video vi possa piacere dove lavo i piatti stoviglio e quant'altro niente ragazze io vi lascio in breve a questo video e ci vediamo a un prossimo video dove lavo i piatti e ovviamente uso i guanti e tutto quanto ok niente ciao ragazze a presto buona vita a tutte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.